Do you speak powerpoint? Sì, perché powerpoint ormai è veramente una nuova lingua Imparare a usarlo al pieno è come diventare un po' più poliglotti Riuscire a spiegarsi meglio, farsi capire di più, comunicare Ciò nonostante, powerpoint in più delle volte è usato così Come una stampella per la memoria Come il gobo della tv Per risparmiare la fatica di impararsi a memoria quello che si intende dire L'effetto di quest'uso però è il sonno Come ci insegna Salvador Dalì Per comunicare efficacemente con powerpoint Vi propongo un modello che ho chiamato coincomo Connettersi, incuriosire, convincere, motivare Sono queste le quattro fasi fondamentali di una presentazione efficace Connettersi è forse la più trascurata E invece è la più importante Perché noi quando cominciamo a parlare di fronte a un pubblico Siamo come questo cavaliere che vuole entrare nel castello E deve ottenere che venga abbassato il ponte elevatoio Connettersi vuol dire far capire all'audience Che siamo qui e ora insieme Che c'è una comunanza Un background condiviso Su cui è possibile instaurare una comunicazione E una trasmissione È una cosa prettamente relazionale In cui il contenuto ha meno importanza È il presupposto per poi far passare il contenuto Quindi nel fare questa operazione Bisogna chiedersi Stiamo cercando di costruire un ponte tibetano In cui la gente si arrischia Oppure abbiamo creato sufficiente fiducia Per cui sembra di essere su un'autostrada Su un viadotto libero Addirittura la comunicazione La fiducia è tale Dopo svariate interazioni Che la comunicazione affluisce Come un treno all'avitazione magnetica La seconda fase è quella di incuriosire Far tirare gli occhi Come dico io Cercare di far sì che il pubblico Si interessi e dica Ah però È la risposta alla domanda Ma a me che me ne frega Ma il tempo che sto dedicando qui L'attenzione che sto dedicando qui Ha senso È ripagata da quello che ascolto Se questo è riuscito La domanda diventa Ma io di questo mi posso fidare Quello che mi dice Ok è interessante Ma è convincente Nel senso riesce a modificare La mia percezione E portarmi a cambiare idea In questo Steve Jobs Da poco scomparso È stato il più grande I suoi discorsi sono costruiti Con una tecnica Che è riconoscibile Anche nei discorsi di Obama E ancora prima Negli discorsi di Martin Luther King Ovvero sia Si presenta Lo status quo Il drago E si offre al pubblico L'armatura Che esso vorrà indossare Per sconfiggerlo Quindi Questo è lo status quo Che è negativo Io vi propongo Un'alternativa migliore Vi faccio vedere Come sarebbe meglio Il mondo Se adottassimo Questo principio Vi rimostro lo status quo Vi rimostro L'alternativa migliore E creo Questa danza Che È un climax Verso Un finale In crescendo In cui Si propone L'utopia Si propone Un'alternativa Verso cui mirare Quindi Il convincere Si fonde Con Il Il motivare Cioè il passaggio All'azione La motivazione Non si instilla Si distilla Nel senso che Spesso La tendenza È quella di pensare Che dobbiamo Trovare il modo Di infilare Nella testa Della gente Le idee Che stiamo promuovendo Che stiamo Proponendo In realtà È molto più efficace Cambiare prospettiva Focalizzarsi Focalizzarsi sull'uditore E pensare Come posso far sì Che vado a pescare A distillare Dall'insieme di motivazioni Che già ha In sé L'uditore Quelle che Sono funzionali A far sì Che lui mi segua Nella mia azione A far sì Che Spicchi il volo Che faccia il balzo Che dica Ok proviamo Andiamo di là Facciamo Un tentativo È la cultura Del just do it Passare all'azione Un modo Per ottenere Questo effetto È L'uso Degli star moments Star sta per Something They'll Always Remember Cioè Quel cue de teatro Quella cosa in attesa Quel momento di sorpresa Che si può ottenere Con l'utilizzo Di un oggetto O Di una battuta Che fa sì che Quel Concetto Rappresentato Dall'oggetto Si fissi Nella testa Della gente Perché la gente Rimane sbalordita Rimane stupita Uno star moment È qualcosa Nella presentazione Che fa venire voglia All'ascoltatore Di raccontare Quello che è successo Alla moglie Ai figli La sera Quando torna a casa Qualcosa di veramente Bizzarro Che si fissa Nella memoria Che si ricorderanno Anche a distanza Di vent'anni Perché in fondo La memoria Funziona come una pellicola E La luce È La sorpresa È L'inatteso È L'anticonvenzionale È questo Che Fissa Nella memoria E lo fissa Perché crea Un'emozione Quindi L'emozione Deve sempre Accompagnare Il contenuto Perché altrimenti Il contenuto Verrà dimenticato Cioè Deve trasparire La passione Dell'oratore Capire perché Questa cosa Che sto dicendo È importante Quindi Certo Bisogna dare i fatti Bisogna comunicare Dei cosiddetti Contenuti E questi E questi Vanno a Insistere Sull'emisfero Sinistro L'emisfero Razionale L'emisfero Del verbale Ma Un buon oratore Tiene in considerazione Anche l'emisfero Destro L'emisfero Delle immagini Della visualizzazione L'emisfero Che ragiona Per simboli Per icone Per figure Che usa L'emozione Come colla Purtroppo Invece La tendenza Nella scuola Non solo italiana È quella Di privilegiare La testa E usare il corpo Solo come veicolo Per portare In giro La testa Invece Ritrovare il corpo Ritrovare La multisensorialità Riuscire a Dare degli agganci Multidimensionali Quindi Non solo La voce Ma anche La figura Ma anche Il tatto Ma anche Il movimento Quanto maggiore È l'interattività O meglio Quanto maggiore È l'attività A cui si chiama Il pubblico Tanto i più alte Sono le probabilità Che il pubblico Ricordi Come dice qualcuno Spiegamelo E lo dimenticherò Mostramelo E forse Lo ricorderò Fammelo fare E la vorrei imparare Il pubblico Dei dibattiti Attorno A un uso Avanzato Del Powerpoint O di qualsiasi software Di presentazione È L'opportunità O meno Di utilizzare Le animazioni Ci sono I puristi Che Dicono Che le animazioni Sono Distraenti Che possono Che sono Una grossa Perdita di tempo Nel momento in cui Le si programma Però Questo certamente Può essere il caso Se le animazioni Sono messe Come Un fattore Cosmetico Come gli effetti Speciali Della presentazione Qualcosa di Assolutamente Accessorio Ornamentale Ma Se invece Le animazioni Prendono La funzione Di guidare Lo sguardo Dell'audience Sulla slide Per descrivere Un processo In cui La dinamica Dell'animazione Rappresenta Qualcosa Rappresenta Un movimento Un processo Un flusso Altrimenti Difficilmente Spiegabile Con le sole parole In quel caso Sono estremamente Efficaci Perché riducono Al minimo I gradi di libertà Dell'audience Che rimane Incollata A quello Che si sta dicendo In quel momento lì E questo Piccolo video Che sta per partire È un esempio Il puntino Azzurro Che si vede È Lo sguardo Del Di chi osserva La slide Nel seguire L'animazione Si vede come Lo sguardo Viene attirato Istintivamente Dall'animazione Netmap È un processo Di analisi Del contesto Per cui si identificano Gli attori Coinvolti In un determinato Progetto Le loro relazioni In termini di Comando Flusso di denaro E anche L'influenza reciproca Di ciascuno di essi Poi si va a leggere Qual è l'agenda Quali sono le priorità Di ciascun attore In questo caso Abbiamo a che fare Con un grafico Una tabella Mettere i dati Della tabella Progressivamente Oppure Le barre di un grafico Progressivamente Ci garantisce Che I nostri ascoltatori Siano Sullo stesso Punto Sullo stesso Elemento Che ci preme Enfatizzare Facи In Inter hearts I taking In 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 Grazie.